Abbiamo 5 milioni e mezzo di euro che potrebbero essere spesi domani mattina senza la necessità di ulteriori indebitamenti attraverso i mutui per dare risposte concrete alle necessità. Anche in epoca di crisi i soldi non spariscono mai, al massimo cambiano di tasca oppure ancora, come nel caso di diversi comuni, sono in cassa ma non si possono spendere. È una delle contraddizioni dei nostri tempi travagliati. Per salvaguardare i bilanci si impongono regole che di fatto bloccano gli investimenti e quindi l'economia. Chiediamo che ci sia un allentamento di quei vincoli posti dalla nuova contabilità che consentono davvero ai comuni di intervenire utilizzando i fondi già a disposizione delle casse comunali per rispondere alle esigenze delle città. I lavori manutentivi sono sicuramente la maggior parte quelli che i comuni chiedono. Allentamenti al patto di stabilità in realtà nell'ultimo periodo ce ne sono stati a partire da quelli sull'edilizia scolastica. In questo ambito il comune di Marcona ha investito mezzo milione di euro in due anni e l'estate 2016 prevede altri interventi manutentivi ad ampio raggio. Continuiamo con gli interventi all'interno delle scuole, in modo particolare nella scuola media. Sono lavori di sistemazione della parte dei soffitti e delle tinteggiature, parte dei cimiteri e asfaltature di alcuni tratti stradali malconci. I lavori di sistemazione delle coperture del cimitero di Gaggio iniziati sabato scorso sono solo il primo di una serie di interventi messi in campo dal comune che sommati ammontano a circa 100.000 euro. Se secondo una teoria molto diffusa l'edilizia è il volano attraverso il quale far ripartire l'economia, interventi come questi rappresentano una boccata d'ossigeno. Chiaramente dietro a questi lavori ci sono imprese, dietro le quali a loro volta ci sono famiglie che potrebbero mettere in circolo una virtuosità positiva nei consumi, è quello che da tempo, anche come Anciveneto, chiediamo.